Salve a tutti ragazzi, finalmente sono riuscita a portarvi un cavolo di video. Cioè veramente in questi giorni, forse sono passate due settimane da quando sono tornata dal viaggio e non ho avuto un cavolo di giorno libero per riuscire a registrare. Perché dovete sapere che io, se non sono solo in casa, non registro. Cioè non perché non voglio, ma perché mi dà proprio fastidio registrare quando c'è gente in casa. Voi magari diriete, ma perché non ti chiudi stanza e registi? Ma questa cosa è impossibile perché dovete sapere che casa mia ha un soggiorno e intorno ci sono le stanze. Quindi se io mi chiudo, a meno che io non parli a bassa voce, le persone mi ascoltano e a me questo dà fastidio. Quindi questa è la causa del perché non sono usciti i video in questi giorni. Quindi ovviamente mi scuso con voi e magari sfruttiamo questa cosa per i nuovi arrivati che magari in questi giorni hanno potuto recuperare i vecchi video. Prima di dare il via ai prossimi video, volevo dirvi alcune cose. Allora, per prima cosa vorrei comunicarvi che, a differenza di prima, non usciranno video tutti i giorni. Perché? Era praticamente diventata impossibile per me riuscire a portare ogni giorno un video. Perché magari registravo un episodio e con le 30.000 cose che dovevo fare oltre al video mi riducevo a montare il video magari la sera. E tipo che ci sono stati dei giorni in cui sono andata a dormire alle 5 di notte perché magari questo video mi dava dei problemi mentre lo salvavo, magari non si sentiva l'audio, magari si vedeva male. E quindi dovevo rifarlo. Insomma, un casino. E per questo ho deciso di portarvi magari 2, massimo 3 video a settimana. Magari il giovedì e il sabato e magari se riesco anche la domenica. Vediamo, insomma. Oltre a questo volevo dirvi anche che siccome, come potete ben vedere dai miei video, ci sono 30.000 serie aperte. E avendo 30.000 serie aperte non riesci a dare nemmeno una, una continuità. E poi magari quando riprendi una hai dimenticato che cosa hai fatto nell'episodio scorso. Quindi è un casino. E proprio per questo volevo chiedere a voi quale serie vi piacciono di più e magari portarle più frequentemente avanti. Ma non solo questo. Magari se volete anche, oltre a The Sims, un altro gioco. Cioè ben venga. Perché siamo sinceri. Alla fine The Sims è bello. Però magari a lungo andare è stanca. Perché alla fine fai sempre le stesse cose. Quindi magari portare anche un nuovo gioco. Cioè non sarebbe male come idea. Mi avete anche chiesto di provare a portare nel canale Life is Strange. Però ragazzi, a me piacerebbe portarlo. Però il problema è che io l'ho già finito questo gioco. Cioè rigiocarci di nuovo sarebbe magari, sì, sarebbe bello. Magari per chi non l'ha visto. Ma per me che comunque ci ho giocato e so quello che succede. E come, tra virgolette, prendervi per il culo. Perché magari le mie razioni, ovviamente, dato che le ho già viste quelle scene, sarebbero, cioè non reali. Quindi non lo so, se ci sono altri giochi che vi possono interessare, me li dite giù nei commenti. E vediamo che cosa si può fare. Quindi niente ragazzi, spero che siate contenti del mio ritorno. Mi fate sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Vi saluto, un bacione. Ciao!